da là il motore vedere il motore oh ostia ho fregato il motore mi hanno rubato il motore oh fregato vai su vai su che te lo faccio andare a vedere vedi quella levetta lì vedi quella levetta lì la levetta lì sul volante quella se la tiri in su vai in retro prova no no dopo dopo aspetta fai vedere lì eh fai vedere il si si perfetto oh steno rischio con una mano è comodo è bello grosso è facile da toccare 5 per cento questo è scarico qui Quanti chilometri c'è in su questa guada? Vedete Qual ti dice dove connetti, i posti dove vai andare a fare il fornimento